il metto british army mk6 il metto in tessuto materiale balistico con verniciatura verde nato originale ex dotazione esercito inglese british army anni 90 l'elmetto anni 80 90 l'elmetto ovviamente è scaduto non ha più proprietà balistiche solo un oggetto da collezione da non utilizzare in ambiti operativi ottimamente conservato in tutte le sue parti il materiale balistico ovviamente è ancora integro perfettamente mantenuto andiamo a vedere l'interno all'interno troviamo il soggolo regolabile del tipo a tre punti agganciabili in tre punti diversi per una maggiore stabilità all'interno alla sua sommità un lacciuolo con quattro attacchi per la regolazione dell'altezza del capo alle taglie che sono riportate in questo piccolo label scritto lateralmente si dovrebbe riuscire a vedere non dappertutto è presente perché sono in cartene quindi si rovinano facilmente all'interno ne abbiamo preso uno qualsiasi per cui è un po polverato da ripulire ma i materiali sono ben tenuti e conservati bene non ci sono lesioni particolari non c'è tutto Grazie a tutti.